Penultima giornata di campionato, oggi andiamo alla scoperta degli ultimi precedenti tra Bologna e Napoli giocati in terra felsinea. Nell'ultima partita in casa il Bologna vuole chiudere con un grande risultato una stagione a tratti entusiasmante. La squadra di Tiago Motta arriva da una goleada, il 5-1 ottenuto a Cremona. Al Napoli sembra ormai certo l'addio di Luciano Spalletti, il mister tricolore. Nell'ultima gara i campioni d'Italia hanno vinto 3-1 contro l'Inter, dimostrando di avere ancora tante motivazioni. 13 il totale delle gare, 2 vittorie del Bologna, 2 pareggi, ben 9 vittorie del Napoli. L'ultima vittoria di padroni di casa è della stagione 2018-2019 e i marcatori sono Santander con una doppietta, Zemaili, Goulam e Mertens. Siamo all'ultima giornata di campionato, il Bologna termina il decimo posto, il Napoli è secondo. L'ultimo pareggio della stagione 2019-2020. 1-1 il risultato finale. A Manolas risponde Barrow. Nel finale gli emiliani vanno vicini alla vittoria con il palo colpito da Danilo. L'ultima vittoria del Napoli è della scorsa stagione. La gara termina 0-2 con una doppietta di Lozano. Grande giornata del messicano del Napoli. Memorabile la sfida del 1946-47. La gara termina per 3-0 con reti di Cappello, Arcari su rigore e Biavati. Nei primi 14 incontri tra le due squadre, nella metà delle volte, il Bologna segnò 3 gol. Scarica l'app di Calcio News24, lascia un like se il video ti è piaciuto e iscriviti al nostro canale YouTube.